In arrivo aiuti economici per le famiglie in stato di bisogno, tutti i nove comuni dell'ambito sociale 6 hanno aderito all'atto di indirizzo per distribuire bonus spesa con le stesse modalità. Lo strumento è sempre la tessera sanitaria che verrà utilizzata come bancomat garantendo semplicità e riservatezza. L'erogazione avverrà in due fasi, la prima attraverso un bando che sarà aperto da mercoledì prossimo 9 dicembre fino agli ore 13 del 16 dicembre. Entro le successive 48 ore avverrà l'accredito. La seconda fase invece sarà a febbraio per coloro che nei prossimi mesi si troveranno in difficoltà. A Fano la cifra complessiva è di 620 mila euro di cui 300 mila di risorse comunali. A questi vanno aggiunti 30 mila euro destinati alle famiglie già seguite dai servizi sociali. L'operazione è stata denominata abbracci comuni. In questa fase chiaramente gli abbracci purtroppo non si possono tenere, non si possono fare, non si possono praticare. Però vogliamo davvero andare incontro, aprirci alle persone e ai nuclei familiari che sono più in difficoltà di altri. Il periodo da prendere in considerazione per la richiesta di bonus spesa è il mese di novembre. La procedura è interamente online. Sul sito dell'ambito si troverà un link dedicato e sarà sufficiente compilare i campi vuoti e inviare la domanda. Per far sì che venga accolta sarà fondamentale rientrare nelle soglie stabilite. I criteri sono per un nucleo con un componente il reddito netto o emolumenti netti di vario titolo deve essere inferiore a 800 euro, per un nucleo con due componenti inferiore a 1000 euro, per nuclei con tre o quattro componenti 1300 euro, quindi non bisogna superare questa soglia e infine per i nuclei con cinque o più componenti 1600 euro. Altro criterio è quello della liquidità. Il saldo complessivo del nucleo familiare, tra conti correnti, libretti di deposito, postali e bancari, non deve superare i 5000 euro, definite inoltre le priorità. Verrà data priorità nella graduatoria definitiva alle famiglie, a quei nuclei familiari che non hanno percepito, sempre nel mese di novembre, alcuna forma di sostegno pubblico, quindi reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, naspi, casi integrazione o quant'altro. La seconda priorità è quella per i nuclei familiari che sono in affitto, quindi che pagano un canno di locazione o pagano la rata per il mutuo prima casa. La terza priorità è per i nuclei familiari con minori all'interno, quindi con figli minori e la quarta e l'ultima è quella per i nuclei con un numero maggiore di componenti, quindi a parità diamo la priorità a quelle famiglie più numerose.